Il Comune di Battipaglia intende individuare una cooperativa sociale o un'associazione di promozione sociale per lo svolgimento di attività di accoglienza, accompagnamento in spiagge e attività di salvataggio in favore di persone diversamente abili, che fruiranno di una delle spiagge libere battipagliesi rientranti nella fascia costiera denominata PitBat. Tale attività dovrà essere svolta nei mesi di luglio ed agosto 2019 nell'area appositamente disegnata per tale finalità da parte del settore tecnico e urbanistica. Per il soggetto individuato è prevista l'erogazione di un contributo complessivo di 5.000 euro. L'avviso è sul sito dell'ente e su manifesti. I soggetti in possesso dei suddetti requisiti potranno presentare domanda entro le ore 12 del 3 luglio, trasmissione a mezzo PEC o con consegna a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo dell'ente.